Siamo davanti al presidio permanente di fronte al cantiere di Terna con due dei volontari che si alternano qui davanti al presidio con Donato e con Salvatore. Allora come vi siete organizzati? Ci siamo organizzati per zona. Per ogni giorno abbiamo individuato delle aree, diciamo per strade. All'interno di ogni giorno c'è un coordinatore che coordina l'orario del presidio e quindi ad alternanza all'interno del presidio. Diciamo l'orario è dalle 7 alle 19, però in genere poi ci allarghiamo pure ovviamente. Ecco in questo periodo ci sono stati dei movimenti che avete notato qui nel cantiere? Certo sì, spesso sono arrivati dei camion e noi abbiamo il compito di allarmare diciamo, di chiamare quanto più interessati è possibile telefonicamente. Sono venuti pure oggi due camioni a caricare della merce, pare che hanno quasi svuotato, ma non sappiamo se è un segno positivo oppure è un segno per mascherare. Siamo vigili, verificheremo sempre il via vai all'interno della stazione. Signor Giuseppe, qual è la sensazione che vive lei tutte le mattine quando si sveglia, apre la finestra e si trova di fronte a questo impatto mostruoso? Già è una cosa che è agghiacciante per quanto riguarda, ancora che non è finita, cioè non oso immaginare quando sarà tutto completo, se sarà completo, spero di no, perché faremo di tutto per non costruire questo mostro. Non c'è rispetto di niente, purché si pensa solo allo scopo di lucro, perché se ne fa soldi, peggio c'è una bomba, perché è la distruzione del genere umano.